Oh, Paris, oh, ma che fai? Che ieri parlavamo e non mi hai detto niente che hai consegnato quella relazione di merda al giudice. Noto che anche oggi è di buon umore, eh? Io sono un attore, ok? Sono un attore. C'è una giornata che mi parte la settimana prossima. Che gli dico? Che gli dico all'impresario? Le ora si calma, eh? Sei qui dentro per chi ha fatto delle cose ben precise con delle conseguenze. Non l'ho fatto apposta. È stato un incidente, un incidente. Non volevo dare fuoco, ok? Lei continua a rifiutarsi di collaborare, di seguire un programma, di fare il primo passo che sarebbe di riconoscere il problema per poi affrontarlo. Sono normale, sono normale. Bene, pensi che, per sua fortuna, la relazione l'ho mandata prima che la sua normalità le suggerisse di aggredire il giudice nel parcheggio. Io non l'ho aggredito, non l'ho fatto apposta, non volevo aggredirlo. Nico, dove cazzo va? Lei ha un problema, un grosso problema. E non è un caso che sta qui. Se lo mette in testa. E lei si ricordi che è il mio psichiatra. E lei si ricordi che è il mio psichiatra. E lei si ricordi che è il mio psichiatra.